Buonasera, a volte voi vi dimenticate che la società che detiene le quote da Paranestro Cantù vende materiali per cardiopatici e quindi noi abbiamo cercato stasera di implementare il mercato alla fine, penso ci siamo riusciti perché costruiremo un'emodinamica qui dietro subito per i cardiopatici perché a parte questo e a parte gli ultimi 46 secondi abbiamo fatto un'eccellente partita ancora, siamo stati continui in difesa e adesso siamo 2-2. Cosa succede adesso? Succede che la serie è una serie nuova al meglio delle 3 e si gioca la prima fra quattro anni, quindi tutto quello che è successo è quasi per finta, 2-2, non conta niente, si gioca best of 3 al meglio delle 3. Però con un altro piglio rispetto a... Sì, abbiamo due partite di fila vinte, la terza, cioè gara 2, abbiamo giocato, siamo andati vicino, loro hanno fatto i bambini con i baffi nell'ultimo quarto e adesso un po' i scenari cambiano, cambiano perché dopo quattro partite avete visto che tutti i giocatori in campo hanno un po' di tossine, è diventata un gioco molto mentale, è diventata una partita dove il singolo possesso c'è dietro tutta una storia della difesa di Becirovi su Ragland negli ultimi 3 minuti. Mi tengo stretto un giocatore che ha mostrato le palline stasera di prendere quei tiri lì, poi ha rovesciato il secchio del latte un paio di volte con delle palle perse che non doveva fare, però signori, bisogna essere capaci, magari riusciamo a insegnargli a non fare quelle palle perse, però a insegnargli di mettere quei canestri io non sono in grado di insegnargli a nessuno, quindi questa è una cosa, è stata una partita a primo tempo dove abbiamo visto in modo eccellente, eccellente perché loro sono il mio attacco del campionato e non hanno prodotto tanto, poi siamo ancora veramente un po' piccioni sui falli nel bonus perché loro sono rientrati alla fine con 6 tiri liberi e io non entro in merito, fallo non fallo, entro in merito che noi ci dobbiamo levare in quei momenti lì perché loro vogliono solo andare in lunetta, il giro, il storto e i due diner sono bravi a rubarsi quei falli lì e noi dobbiamo fare un passo avanti in 48 ore per non farci ciolare sempre così. Il fatto che l'hanno richiamato time out alla fine? Guarda, questo ti dico, quando tu devi rimettere la palla contro il pressing, chiamare time out negli ultimi due minuti ti raccorce il campo, a me costava metterla in campo e giocare su un campo di 28 metri, ci sono di 14, su questo ho fatto dei simposi, secondo me non è tanto conveniente accorciare il campo. Se voi vi ricordate, con Siena in casa due anni fa, noi recuperiamo l'ultimo palo a pareggiare Marco Schwidi dall'angolo a tre punti in campionato, due anni fa, loro chiamano time out e hanno meno campo per fare la rimessa perché loro hanno avanzato moltissimo la pressione difensiva, sono molto furbi, loro sanno come mettersi in posizione per negare, secondo me è più facile mettere in campo la palla e non ci siamo riusciti, quindi forse la mia teoria è da rivedere ma non sono tanto convinto, su 28 metri che su 14. Sulla teoria non metto in discussione se sei un maestro, nella pratica c'era un gran casino... C'era un gran casino perché Joe era stanco e non si è smarcato, l'errore che ho fatto è non mettere in campo Mazzarino, che sarebbe stato un target molto più chiaro per Marti perché sono vent'anni che gli diamo a lui quando c'è bonus e questo è stato il mio errore, non richiamerei time out comunque, però c'è stato un po' di metodo champenoise. Un po' sentimentale, un po' il più semplice. Si pensavamo che fosse finita, grave errore, però è meglio andare a Sassari con una vittoria strappata con i denti che era una vittoria netta, per il semplice fatto che le storie dei Behoff sono molto fettici. Chi ha perso di tanto, guardate Roma, poi ha qualcosa in più una volta dopo, sempre. E chi ha fatto una partita in controllo ha qualcosa in meno, di rabbia, di intensità e di concentrazione. è proprio scritto nella palla canestra. Quindi hai volutamente vinto di poco? No, ci siamo complicati la vita. Però devo trovare, secondo me, anche ho cosa da dire ai miei giocatori, intelligente. Come hai tante partite che non conducevate per così tanto tempo in controllo? Guarda, se noi riuscissimo a fare cinque palle perse in meno, che sono lo spread che piace tantissimo. Più passi. Eh? Passi delle palle perse proprio non forzate, le due in contropiede di Gio. Ma tienti la palla, mettila nelle mutande, tienti la palla, tanto siamo avanti. Quelle, secondo me, sono proprio la bilancia emotiva della partita. Loro su una palla persa ti puniscono sempre con un tiro da tre punti. E poi, questo lo spiegherò domani a allenamento, sul penultimo possesso, l'assassinare Diner da sotto, due punti, invece di andare a ruotare su Diner e prendere una bomba, non mi ricordo da Gordon o non mi ricordo, perché tre punti fanno tutta la differenza nel mondo invece che due. E lì siamo ancora un po' bimbi. Se lo posso così? Grazie mille. Grazie. Arrivederci.